L'Evangelo secondo Giovanni In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse profondamente e dichiarò In verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse Ora, uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse, di chi è colui a cui si riferisce Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse Signore, chi è? Rispose allora Gesù, è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui Quindi Gesù gli disse, quello che devi fare, fallo al più presto Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo Alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa Gesù gli avesse detto, compra quello che ci occorre per la festa Oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri Preso il boccone, egli subito uscì Ed era notte Quando egli fu uscito, Gesù disse Ora, il figlio dell'uomo è stato glorificato E anche Dio è stato glorificato in lui Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua E lo glorificherà subito Figlioli, ancora per poco sarò con voi Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei Lo dico anche a voi ora Dove vado io, voi non potete venire Simon Pietro gli dice Signore, dove vai? Gli rispose Gesù Dove io vado per ora, tu non puoi seguirmi Mi seguirai più tardi Pietro disse Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te Rispose Gesù Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico Non canterai il gallo Prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte Ecco, fratelli, questa ultima frase ci inchioda È la parola di libertà Di cui abbiamo bisogno, fratelli carissimi Tu rinnegai a Cristo Hai rinnegato a Cristo Io ho rinnegato Cristo Pietro Pietro ha rinnegato Cristo Come Giuda In verità, in verità ti dico Quello che tu farai Ma ti ho scelto Ma ti ho amato E ti dico una cosa Ti profetizzo una cosa La più bella che possa profetizzarti Mi seguirai più tardi Darai gloria a Dio come Dio Sto dando gloria a te Ora Morendo per tutti Ora Ora dice Il figlio dell'uomo è stato glorificato Quando? Quando Giuda è uscito Quando Satana è entrato in Giuda Mamma mia Sì Quando Satana entra in te E consegni a Cristo E lo tradisci Ora In quel momento Gesù è glorificato La gloria Lo spessore La sostanza divina L'impronta della sostanza divina Appare E dà gloria Dà onore Dà autenticità Dà lode Certifica Testimonia L'amore di Dio Questa è la gloria di Dio In Cristo che dà la vita per te Che si consegna spontaneamente Dà il boccone a Giuda Come lo dà a te e a me Che tante volte abbiamo dubitato Non vi scandalizzate Tante volte abbiamo dubitato Forse Senza neanche rendercene conto Forse sì Senza sapere veramente cosa stavamo mangiando Il corpo di Cristo che noi riceviamo L'Eucaristia E' il suo corpo spezzato per amore Fratelli carissimi E dentro c'è scritto Il suo amore per te Il suo amore per me E la mia e la tua storia Chi si unisce a Cristo Diventa una sola carne con lui Diventa Cristo e Cristo crocifisso Cristo e Cristo risorto Hai dubitato questo mille volte Come l'ha dubitato Pietro Davanti alla possibilità di morire No, no, fino a lì non arrivo Fino a lì non posso arrivare Vengo con te Fino alla morte Ma che vieni con te Tu avresti venuto con me Fino alla morte Se Avresti visto che io Stavo lottando per te Stavo lottando con la spada Avresti voluto morire Nella battaglia umana Nella battaglia contro l'ingiustizia Lì forse 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 mi avresti seguito Ma lì come l'ultimo Come un agnello Sgozzato Nite Umile Senza reagire Senza dire una parola Senza difendermi No, io lì dentro Non ci entro Tu lì dentro Non ci entrerai Come non ci siamo entrati tante volte Per questo la notte di Giuda È la stessa notte di Pietro Identica Ma per Giuda Non c'è stato il gallo Il gallo è È l'apostolo È il Vangelo È l'annuncio del Vangelo È quello che vede Spuntare l'alba È l'annuncio a tutti Il gallo ha visto l'alba Del Del venerdì santo Ha visto l'alba del sabato santo Ma ha visto l'alba della domenica Il gallo I vescovi erano chiamati galli Anticamente Nella chiesa primitiva Il gallo Annuncia Il mistero pasquale di Cristo Prima Di quel mistero Prima che Per tre volte Cioè prima che Prima scusate Prima che il gallo canti tre volte Canti Tu mi rinnegherai tre volte Vuol dire che tu mi rinnegherai Nella stessa notte di Giuda In quella notte tu mi rinnegherai Perché tu non vedrai nulla Perché sei preso L'ingano del demonio Bene Io te lo dico adesso Ma accanto a questa profezia Ti dico che tu mi seguirai Che quando sentirai cantare il gallo Capirai chi sei Capirai veramente chi sei E scenderanno le lacrime sul tuo volto Allora potrai Ricordarti Che io te l'ho detto Che quella mia parola È una parola piena d'amore Allora comprenderai Allora comprenderai quando verrò Risorto sulle rive del mare di Galilea Ad abbracciarti E a dirti a dirti Mi ami? Sì sì ti amo Ti amo Tre volte Sì Tu sai che io voglio amarti Tu sai tutto signore Io non so che dirti Guarda Io voglio amarti Sono un macello Ti ho tradito Allora sì Allora adesso puoi Pascere le mie pecorelle Puoi compiere la volontà del padre Puoi compiere la tua missione E andrai dove tu non vuoi Cioè mi seguirai Mi seguirai Dice E detto questo Gli disse Seguimi Perché darà gloria a Dio Dice il Vangelo di Giovanni Esattamente come Cristo Dice in questo momento Io sto dando gloria a Dio Amandovi A tutti quanti Quanto è importante il Cenaco Quanto è importante la comunità cristiana Dove si compie tutta la parola Prima del Gezzemani Prima del mistero pasquale C'è la comunità cristiana Prima di entrare nel lagone della vita C'è la comunità cristiana Dove riconoscere chi siamo Riconoscere la nostra debolezza I nostri trattimenti Lo stesso spirito demoniaco Che ha avuto Giuda dentro La stessa notte Nella quale entriamo tante volte Bene Nella comunità cristiana Tutto questo può apparire chiaro E senza timore Possiamo riconoscerlo Perché? Perché c'è il petto di Cristo C'è il suo fianco squarciato C'è la roccia del sepolcro Aperta C'è il cielo di nuovo Spalancato su di noi C'è la vittoria di Cristo Possiamo mettere la nostra mente Possiamo reclinare lì il nostro capo Possiamo riposare nel suo amore Possiamo riposare Da tutti i nostri sforzi Per cercare di lottare contro l'ingiustizia Possiamo riposare dai nostri peccati Possiamo morire all'uomo vecchio Su quel petto Su quella fenditura della roccia Possiamo nasconderci Possiamo sentire il suo cuore Che batte per te Per me E ti dice ti amo Ti amo Ti amo Possiamo sentire profondamente Dentro di noi Di essere amati così come siamo Gesù sapeva tutto Prima Qualcuno mi tradirà Morirò Lo sapeva tutto E non ha fatto nulla Per cambiare la storia Nulla Perché sapeva che quella Era la volontà di Dio Per salvare te Dentro la comunità cristiana Nel Cenacolo Possiamo ascoltare questo Ascoltare la profezia Vederla compiersi Fare dentro Il mistero pasquale di Cristo Messi lì Nascosti Mettendo la nostra mente La nostra mente Quella dove entra il peccato La nostra ragione Obnubilata Dalla menzogna Che vede tutto male Che vede tutto con lo spirito di Giuda Possiamo mettere questo Riposarlo Reclinarlo Sul petto di Cristo Come Cristo Lo ha reclinato Sulla croce E reclinarlo con Lui Nella storia Perché sappiamo anche noi Che quello che ci attende oggi Ci attenderà domani È la morte È la morte Ma quella morte È una porta stretta Che dà sulla vita Per te E per i fratelli Perché la passi con Cristo Perché è l'unico posto In cui tu puoi stare Unito, 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 unito Unito a Cristo Per entrare con Lui nella vita E portare con te Tantissime persone Quelli che sono nella tua famiglia Quelli che sono al tuo lavoro Dove sia Questa è la missione Questa è la missione di Pietro L'unico pericolo Induirci come Giuda No Chiediamo al Signore Questa intimità Entrare con Lui Appoggiati a Lui Appoggiati al suo petto Riclinando il suo petto Riposando Rimettendoci a Lui Completamente Sì Signore Sono questo Risuscitami Sì Signore Sono questo Perdonami Sì Signore Guarda Ho tramato Ho pensato Aiutami E tu vedrai cose meravigliose Nella tua vita Fratello mio Vedrai cose meravigliose In questa Pasqua Vedrai il passaggio Vero E dalla ragione umana Dal pensiero mondano Al pensiero divino Che è amore Amore Che è Stendere le braccia Consegnando la nostra vita Grazie a tutti i nostri